Siete sulle pagine di LentiCar, automobili per tutti. Fiat Fiorino 1.3 Multijet 75 cavalli, versione SX la più equipaggiata. Ha percorso solo 32.000 chilometri, unico proprietario, in perfette condizioni allestita officina ed ora visioniamola nei particolari. Antinebbia, ancora ben gommata e portapacchi con portatubi. Parlare di alzacristalli e specchietti retrovisori elettrici sembra una banalità, ma su questi mezzi commerciali spesso bisogna andare di manovella. Airbag passeggero, sempre optional sui furgoni e poi impianto radio e naturalmente aria condizionata. 32.000 chilometri certificati e garanzia di conformità 12 mesi. Il vano posteriore è attrezzato a officina e naturalmente si può svuotare completamente. Porta laterale, se comprate questo mezzo nuovo ve la fanno pagare cara e salata. L'interno lo puoi vedere a 360 gradi sulla nostra pagina Facebook. E per altre informazioni alzate il telefono e chiamateci immediatamente o mandateci un WhatsApp. Grazie, ciao!